Non posso credere che ti sposi quello? Quello, il mio fidanzato. Sì, ma tu ami me? Che piccola di merda! Si c'è una sposa! C'è la ciola, c'è la ciola! Lasciate la sposa! Il matrimonio è fondamentale. È il momento in cui i due anime si uniscono a te. Una famiglia? Un mondo corrente, papà. La donna più inveccia, più buona. Mi chiami tu, sentire a cellulare, amore mio? Sì, ti chiamo. Due colpetti di camasolta. È quello che ci voleva. Ma sai che quella da piatto è un tipo particolare? Ma è che il mostro... Lo mangi lei, pronti? Ma come si permette? Guardi che noi qui a San Moritz siamo abituati a cose molto scipite. Panna d'escurazione! Tra moglie e marito devi mettere il dito. Ma prima. Sai, io sono un ragazzo semplice, dall'animo gentile. Ma una domanda te la voglio fare, Patti. Poi scopà! Dimmi la verità, ti piace l'unico? Sei troppo. Troppo? Troppo sola, ok? Pronto, chi è che si spiccia? Se vieni qui, ti fai la giastaggiatta, la giastaggiatta, la ciccia. Il finale è disturbata l'animo. Pazzo, pegaloppa la ronnetta. La nonna di Heidi. San Moritz. Ma noi ti dobbiamo chiedere una cosa molto importante. Eh, che fa la dieta oggi? Sì, perplè. La festa della Diannubilate. Dov'è? Pazzo, ronzo, ma ci vedi? Sta qua, pensa. Mettilo in coda, mamma. Il lecca-lecca non lo voglio fare, glielo dico subito. Il lecca-lecca non è finito. E cos'è? Il bastoncino. Signora, guardi com'è bello. È un porcelino d'India, guardi. Il 26 novembre al cinema, è già Natale. Passa parola. Il 26 novembre al beach.